Che è successo? Che è successo? Il corpo è sparito! Susanna! Chiamate un'ambulanza, cazzo! Il fatto che il corpo sia sparito ci ha salvato. Facciamo un patto. Nessuno dirà niente, ok? Non parleremo più di questa storia. Andiamocene! Forza, andiamo! Andiamo via da qui! Andiamo! Dove andate? Vivremo la nostra vita come se niente fosse successo, ok? Che è tutti i tuoi segreti? Perché l'avete lasciata sola? Il messaggio diceva perché l'avete lasciata sola. È ovvio che si riferisca a Susanna. Hanno trovato Susanna nel suo appartamento. Il fatto è che dicono che si è suicidata. Supponiamo che qualcuno dica la verità. Avrebbe prove? Sarebbe la sua parola contro la nostra. Grazie. zeniu da sua parola contro la naz Promise. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.